A breve approderanno alla Sesta Commissione alcuni provvedimenti sui quali sta lavorando un tavolo di lavoro dell'Assessorato della Cultura da molto tempo. Sono due le esigenze che dobbiamo cercare di conciliare. Da una parte quella di alcuni territori del Piemonte in questo momento scoperti dal punto di vista dell'offerta di sale cinematografiche a causa del contingentamento presente nella normativa attuale. Esistono investitori privati che vogliono portare risorse nel settore e quindi dobbiamo cercare di trovare una soluzione per quel tipo di problema. Dall'altro c'è un problema molto torinese che è legato alla necessità di salvaguardare la realtà esistente e quindi di cercare di conciliare le esigenze dei multiplex e delle grandi multisale con le esigenze di un cinema di prossimità. Non è semplice trovare una soluzione, l'Assessorato sta lavorando molto bene. In Commissione credo che tutti saranno in grado di dare un contributo fattivo perché non è sicuramente una tematica sulla quale fare guerre ideologiche, è una tematica su cui tutti concordano nel trovare soluzioni. Il sistema cinema piemontese ha un aspetto d'eccellenza per quanto riguarda il recupero culturale del cinema che è dato dal Museo del Cinema. Ha un aspetto legato alla vetrina, alla promozione, che è il Torino Film Festival, il Festival Cinema Ambiente, il Festival Cinema Gay, il Festival Sottriciotto. Ha un aspetto imprenditoriale che è legato alla Film Commission e quindi all'assistenza logistica e ai supporti economici che permettono di attirare produzione sul territorio. Ha avuto un aspetto di ricerca legato all'UMIC. Ha avuto un aspetto di attenzione legislativa. È stata fatta nel 2006 o 2007 una legge che, se ricordo bene, ha approvato all'unanimità che stabiliva dei paletti rispetto alla creazione di nuove multisale, il che voleva dire permettere alle singole sale cinematografiche che ancora c'erano, soprattutto nei centri storici dei piccoli comuni, di mantenersi in piedi e di svolgere una funzione che era importante rispetto alla cinema, ma era anche importante rispetto al mantenimento di punti di aggregazione sociale sui territori. C'è un'emergenza. Il 31 dicembre i grandi distributori hanno fissato la data nella quale chiuderanno la distribuzione della pellicola tradizionale, chiamiamola così. Per cui sopravviveranno solo le sale che avranno fatto il necessario adeguamento tecnologico, che si saranno digitalizzate. Sono circa 80 le sale in questo momento che non hanno fatto questo tipo di intervento. Ci sono province che al primo gennaio, se così rimanessero le cose, sarebbero totalmente scoperte. Una è quella da cui provengo io, il verbano così ossola. La regione ha già fatto molto attraverso un bando dedicato alla digitalizzazione, investendo più di un milione e mezzo di euro e dando la possibilità a 49 attività di adeguarsi dal punto di vista tecnologico. Il settore chiede un ulteriore intervento e quindi l'oggetto di questa audizione è stato proprio quello di cercare di trovare una condivisione fra i commissari e fra le varie forze politiche per arrivare in Consiglio regionale a spronare la giunta regionale che già ha fatto tanto per cercare un ulteriore sforzo in termini di investimento, perché il 31 dicembre è molto vicino e quindi con l'ufficio di presidenza della Sesta Commissione abbiamo concordato un ordine del giorno che va proprio in questa direzione. C'è stata una risoluzione all'incirca del 45% delle risorse e allora questo sistema ha cominciato a perdere i pezzi. Il primo pezzo significativo è quello di Lumic, il secondo pezzo non perso ma sicuramente in crisi è quello della Fincommission, che non avendo più le risorse precedenti può attirare minori produzioni e teniamo conto che minori produzioni cinematografiche sul territorio vogliono dire minori risorse sul territorio, perché quando una troupe lavora sul territorio piemontese vuol dire che va a dormire negli alberghi piemontesi, mangia nei ristoranti piemontesi, utilizza parrucchieri piemontesi, utilizza comparse piemontesi e quant'altro. Adesso c'è un problema legato alle sale, la digitalizzazione impone alle sale degli investimenti per le quali i proprietari non hanno le risorse necessarie, quelle che sta mettendo in campo la regione che mi pare si aggire nel torno al milione e mezzo, non sono certamente sufficienti per tutte le sale piemontesi. Quindi c'è il rischio che i pezzi del sistema cadano e che non si sia in grado di proporre una politica nuova. Io penso che quando le risorse diminuiscono la politica deve fare un grande sforzo di fantasia, di progettualità, perché è vero, è molto più facile amministrare quando ci sono i soldi di quanto non lo sia, amministrare quando i soldi non ci sono, ma proprio quando non ci sono non si può fare semplicemente un'operazione di ridurre il 20% a tutti, il 30% a tutti, il 40% a tutti. È il momento di fare delle scelte, per quanto dolorose. Per esempio bisogna domandarci se Torino può ancora mantenere il Festival Cinema Gay, il Festival Cinema Ambiente sotto 18 e il Torino Film Festival ad un alto livello, o se non debba operare delle scelte per quanto dolorose tra queste manifestazioni. Il settore cinema vive una crisi complessiva che stanno vivendo tutti i settori, forse il settore cinema ancora di più, la continua contrazione degli incassi o ancora di più la continua contrazione delle presenze è molto preoccupante, meno 6,8% nel 2011 rispetto al 2010, meno 9% nel 2012 rispetto al 2011 e il 2013 parla di una media, di un'ulteriore riduzione del 12,5%, quindi dati pesanti, siamo passati dai 105 milioni di spettatori del 2003 ai 100 milioni del 2012, abbiamo perso 5 milioni di spettatori in pochi anni. Le motivazioni sono tante, dalla pirateria che sicuramente sottrae spettatori al settore fino al modello dei multiplex che forse è da rivedere, la scelta di Juventus ad esempio di non investire più in continassa nel settore dà un'indicazione sul fatto che anche i multiplex e quindi anche le grandi sale hanno problemi. La soluzione, trovare la soluzione non è semplice, non ce l'abbiamo sicuramente in tasca, bisogna cercare di trovare questa soluzione in accordo, in concertazione, in continuo dialogo con coloro che rappresentano il settore per cercare di dare un sostegno, quello della digitalizzazione sicuramente ad esempio nel breve termine un intervento che spero si possa fare, dopodiché la crisi è una crisi complessiva, il cinema la paga come la pagano altri settori o riparte la macchina nel suo complesso oppure sarà difficile trovare ricette? Un sistema cinema che si basi soltanto sulle multisale è un sistema cinema che promuove soltanto le pericole commerciali, mentre il cinema è anche ricerca, è anche arte, è anche sperimentazione e quindi da questo punto di vista non è pensabile un sistema cinema soltanto commerciale. Però teniamo conto che le sale cinematografiche singole non sono soltanto un luogo dove si proiettano film, sono luoghi dove si possono fare assemblee, dove si possono fare incontri per gli studenti nelle scuole, dove si possono fare conferenze. Cioè la piccola sala è anche un punto di aggregazione che va difeso per il valore sociale che esso ha, perché poi quando una piccola sala cinematografica viene chiusa perché non è più in grado di proiettare film, è un edificio che va in degrado e che nel giro di qualche anno è da buttare. Ecco, difendere le piccole sale da questo punto di vista, non è il principio di difendere la nicchia o ad ogni costo il mantenere tutto così com'era, è il difendere il valore sociale di una realtà che è utile per il territorio.